Ciao a tutti da Marco Nuniconi, oggi un programma un po' speciale, cosa dicono di noi? Io sono DJ Marco, ti volevo fare i complimenti per la splendida doppia puntata sul mashup, veramente bella e interessantissima. Stupendo il brano dei Jefferson, fatto con il Boyz Me, veramente notevole. Complimenti, bravissimi, ciao, a presto. And all the joy within you, the dials, don't you want somebody to love? Buonissimo DJ Marco, ti volevo fare i complimenti per la splendida doppia puntata sul mashup, veramente bella e interessantissima. You better find somebody to love? Bella e interessantissima. Stupendo il brano dei Jefferson, fatto con il Boyz Me, veramente notevole. Complimenti, bravissimi, ciao, a presto. Buonissimo DJ Marco, ti volevo fare i complimenti per la visione. Ogni mattina un ospite di rilievo, con noi oggi Marco Domeniconi.